Siamo con il signor Giovanni da Spadola a Riage a Piedi, passando dal santuario di Montestella. Allora, passando a San Bruno, Bibio di Monasterace, Monte Peccoraro, Punta di Pietra Spada, Ferdinandea, Mangiatorella, L'Azaia, Montestella. Montestella si scende giù nella grotta a salutare la Madonna, a pregare per la Madonna. Dopo sono costretto a prendere una stradella sterrata che costeggia la montagna, dove si esce a Titi. Da Titi dopo si arriva a Stignano e infine a Riage qui ai Santi Medici. Quale animo ha avuto in questo percorso? Che cosa l'ha animata? L'anima e la fede e il cambiamento che mi hanno dato dentro il cuore questi Santi durante un mellegrinaggio che io ho fatto la prima volta di notte da solo perché, non so, forse i Santi mi hanno dato questa spinta di entrare a partire di notte da solo e in quella notte mi hanno cambiato completamente la vita e le devo ringraziare sempre. E' nel silenzio che si ascolta la voce di Gesù e di Dio, vero? Grazie, grazie di tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.